Siamo sempre qui all'ultra body e oggi non avevo più magliette da mettere quindi ho messo una maglietta di chiara che mi va super stretta e sono misto tra un ciccione e un muscoloso. Ah e per finire ho anche un buco nei pantaloni così per essere sempre trendy alla moto. Comunque il PA sta perdendo la scommessa, sto seguendo la dieta da paura. Ferry, ti muovi? Come mi hai chiamato? Rompicazzo hai detto? Chiedi scusa. Scusa, perché stai facendo filmati? Chiedi scusa. Non cazzo nessuno. Sto rompiballe che ha rotto le palle tutta stamattina. I bambini e Angie, il mio marito. Tu puzzi. Tu puzzi tantissimo. Dopo due mesi di lavoro è arrivato il momento fatidico della lavagna. Che entri la lavagna. Ma da che parte si guarda? Da quella. Ah da qua. Neeeh. Iniziamo a scrivere cose, robe. Tipo la talk list. Soprattutto dove... Però non è... C'è... Soprattutto dove... Alla qua.